È previsto per il prossimo 23 febbraio alle ore 17 il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione presso l'Aula Consiliare del Comune di Agropoli per la trattazione dei seguenti argomenti. Interrogazione di interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla nota protocollo 34 49 6 2020 del 31 12 2020. Interrogazione di interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulla gestione del teatro comunale. Interrogazione ed interpellanza del consigliere Agostino Abate al sindaco sulle condizioni di sicurezza di via Malagenia. Interrogazione ed interpellanza della consigliera Giuseppina Botticchio all'assessore Rosa Lampasona su eventuale rivisitazione del piano ospedaliero del 2018. Approvazione dei verbali delle sedute del 28 dicembre 2020 e 31 dicembre 2020. Surroga consigliere di missionario Bonora Maristella e contestuale convalida dell'elezione consigliere comunale del signor Bufano Bruno. Approvazione bilancio consolidato anno 2019. Proposta consigliere Abate gestione del teatro comunale Edoardo De Filippo gestione cineteatro atto di indirizzo. Imposta municipale propria IMU anno 2021. Approvazione aliquota dell'addizionale comunale IRPEF anno 2021 e provvedimenti. Qualora tale seduta dovesse andare deserta il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria di seconda convocazione presso l'aula consigliare del comune di Agropoli il giorno 25 febbraio 2021 alle ore 17 per discutere lo stesso ordine del giorno.